La cocciniglia ha attaccato le nostre viti da uva da tavola, non appena ce ne siamo accorti subito intervento ovviamente biologico fogliare e guardate qui, boom, esplosa con un trattamento guardate è rimasto solo la traccia, nemmeno un insetto, si vedono le formiche che fanno su e giù perché vanno a cercare la cocciniglia ma non hanno più nulla da trovare, nulla da mangiare tutto questo con...